Musica Ciao patatini e patatini, benvenuti in questo nuovo tutorial. Questo tutorial è su un trucco molto molto versatile, infatti tempo fa ho avuto parecchie richieste di trucchi per matrimoni, per invitati al matrimonio, per perché no spose stesse, oppure anche per tutti i giorni ho un trucco abbastanza versatile o con dei colori molto molto naturali, il classico trucco vedo non vedo comunque un trucco molto molto versatile e molto molto nude, infatti con questo trucco mi sono ispirata un po' a queste richieste che avevo da tempo e ho voluto fare un unico trucco, lo possono creare veramente tutte le ragazze, quindi facilità a prova di deficiente. Niente, vi lascio al video. Inizio la mia base con il mio nuovissimo fondotinta di Revlon, il color stay della colorazione buff a 105 anni utilizzando il mio round kabuki di acuro numero H52. Inizio stendendolo come sempre dal centro del viso verso l'esterno sfumandolo con dei movimenti rotatori. Poi vado a correggere la zona delle occhiaie con il correttore di Benefit, l'irese paste. Lo riscaldo prima con le dita e poi lo lavoro sulla zona picchiettandolo appena appena. Poi fisso il tutto con la cipria compatta di Slick, la suede effect, utilizzando il powder brush di Real Technique. Vado poi a scolpire il mio viso utilizzando la terra di Nars, la mia nuovissima laguna, con un pennello angolato. E lo stendo poco alla volta sfumandolo benissimo appena sotto gli zigomi, ai lati della fronte, appena sotto la mandibola, ai lati del naso e sotto il mito. Vado poi a dare colore alle guance con questo bellissimo blush pesca corallo, sempre di Nars, chiamato Torrid. Illumino con Albatross, sempre di Nars, al centro del naso, prima con le dita. Poi prendo un pennello da correttore e lo stendo anche sopra l'osso zigomatico. All'esterno delle sopracciglia, sopra l'arco di pupido e sul mito. Dal kit Princess di Benefit prendo la base occhi color biscotto tendente a rosa, a rosa antico, e lo stendo su tutta la palpebra mobile, con le dita. Definisco intanto le mie sopracciglia con il pennello angolato e piatto, utilizzando sempre dal kit di Benefit l'ombretto color marrone scuro. Vado poi a prendere il colore più chiaro, un bianco perlescente, e lo stendo nell'angolo interno dell'occhio. Con lo stesso colore marrone scuro di prima, ma utilizzando un pennello da sfumatura, ritorno poi sugli occhi e continuo scurrendo l'esterno della palpebra mobile fino all'angolo interno, creando una specie di arco molto molto sfumato per dare l'effetto di ombra naturale. Porto poi il colore anche nell'arima inferiore dell'occhio. Completo poi con il colore centrale del kit, un rosa antico simile alla base utilizzata prima. E lo vado ad utilizzare però sopra l'arcata sopraccigliare per dare un po' di luminosità allo sguardo. Riprendo Albatross e illumino l'angolo interno dell'occhio. Con la mia cagial nera di Kiko, la Glamorous Eye Pencil, vado ad intensificare lo sguardo utilizzandola nell'arima inferiore degli occhi. La vado poi a sfumare con lo stesso pennellino angolato e piatto di prima. Vado ad ingrandire il mio occhio con questa cagial bianca della Yes Love, utilizzandola nella rima interna dell'occhio. Piego le mie ciglia e applico il mascara contenuto nel kit, il Bad Gal Lush. E lo applico sia sopra che sotto più volte, in modo da infoltire le ciglia. Ed infine ammorbidisco le mie labbra secchissime con il burro di cacao. E applico poi questo favoloso color rosa corallo, sempre di Nars, chiamato Niagara. Questo è l'effetto finale, questo è il tutorial finito. Spero che questo look vi sia piaciuto, spero che lo utilizzerete anche magari qualche mattina di fretta o se non avete voglia di stare dietro a mettervi mille colori in faccia. Con questo look sicuramente andrete sul nude, sul naturale. E punterete sempre ad un look sofisticato, ma soft, cioè sobrio, comunque non pesante. Niente, io spero che vi sia piaciuto di nuovo e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao patatine patatini! La posta di gloria! Allora, come sapete, sta andando tantissimo questa rubrica, per cui aprirò una rubrica a fine video per salutare coloro che vogliono essere salutati dalla sottoscritta. Per cui, come ogni volta, cosa squallidissima, mi sono segnata questa volta per esigenze personali perché sono più di dieci nomi, per cui sui post-it mi sono segnata tutti i vostri nomi da salutare. E niente, incominciamo! Un saluto profondo per Marzi Massidda, che è una ragazza carinissima, e ti saluto, che mi condivide sempre un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di foto su Facebook e mi fa vedere un sacco di unghie, di lavori, di make-up. È la mia ricercatrice personale di foto. Alexia D'Agostino, ciao! Poi Giada Vegni, Violetta Colombo, Lucia Felle, Oriana, Oriana, mi ha spedito anche tempo fa una gendina carinissima a Zebrata, quindi ciao, Oriana! Antonella Miravello, ciao! Angelica Casu, Noemi Makeup30, Mara di Mara Nils & Beauty, Luana123486, Luana, ciao Luana! Marika Mercuri, ciao! Nadia di Stella Makeup99, Forbidden Love2695, Juicy di Juicy589, Alessia di Alessianica93 e Annie Mama, Annie Mama. Spero di averle salutate tutte, se mi sono dimenticata qualcuna è perché ancora non vi ho letto, per cui nel prossimo video verrete sicuramente salutate. E niente ragazzi, la posta di Gloria è finita, per cui ci vediamo alla prossima rubrica. Mi raccomando, scrivetemi! Ciao! La posta di Gloria! Ciao a tutte patatine e patatini, questa è la mia postazione makeup.